Per i carabinieri è stata Antonella Gasparro, 36enne pescarese ex titolare del Coiba, ad appiccare il fuoco al pub di Chietiscalo divorato dalle fiamme il 27 ottobre scorso, rogo che ha danneggiato l'intera palazzina di Viale dell'Unità d'Italia, costringendo all'evacuazione gli inquilini. Dunque è stato risolto il giallo del rogo doloso, con un'inchiesta che è andata a ritroso nel tempo, fino al 5 di settembre, quando la Gasparro ha denunciato presunti pestaggi di intimidazioni. Tutto partirebbe da quella data, dai dissapori con i proprietari dello stabile e del circolo, che le avevano intimato lo sfratto per morosità che sarebbe stato eseguito il 29 ottobre, due giorni dopo il rogo. Contrasti che sarebbero sfociati nelle denunce della donna. Ad aiutare nelle indagini il nord dei carabinieri di Chieti sono state le testimonianze e le immagini delle videocamere di sorveglianza, che hanno ripreso l'ultima persona ad uscire dal locale prima che partisse l'incendio proprio Antonella Gasparro. Per lei, ora, il Tribunale di Chieti ha disposto il divieto di dimora in città.